Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Mmm! Ehi! Mmm! Guardate dove siamo! Siamo in un bellissimo parco! E guardate cosa abbiamo! Yum! Un pranzetto appetitoso! C'è dell'uva... Mmm! Dei lamponi... Mmm! Mmm! Una fragola bella rossa! E abbiamo delle verdure! Un sandwich, cracker... Ce ne occuperemo tra poco! Ma prima giochiamo un po'! Andiamo! Wow! Questo parco è bellissimo! Dai! Guardate queste piante! Sembrano semplici piante! Ma per me sono meravigliose! Guardate! Sono così verdi e vitali! E hanno un profumo fantastico! Wow! Ehi! Ho un po' di fame! Mangiamo qualcosa? Wow! Che è successo? Dov'è finito? Oh no! Il mio pranzo è sparito! Ehi! Agente! Agente! Ehi, Blippi! Cos'è successo? Il mio pranzo era proprio qui! Lo stavo mangiando ed era buonissimo! E poi sono andato lì per guardare le piante! Quando... Quando sono tornato! Era sparito tutto! Beh, sembra proprio che dovremmo investigare! Sei fortunato! Ho la borsa per le indagini qui con me! Ho un'ottima idea! Vuoi aiutarmi, Blippi? Mi farebbe piacere aiutarti! Ho questo speciale distintivo per te! Oh! Oh! Wow! Guardate qua! C'è persino il mio nome sopra! Wow! Sono onorato! Wow! E guardate con cosa è arrivato! Una bici della polizia! Posso darmi un'occhiata? Certo che puoi, Blippi! Fai pure! Forte! Ok! Guardate qui! Un casco! Wow! Questo vi tiene al sicuro! Ok! E... Oh! Guardate qui! La vedete? È una luce! Pi-pi-pi! E poi il manubrio! E una ruota gigante con lo pneumatico! E poi un'altra ruota gigante con un altro pneumatico! E qui ci sono i pedali! E il cavalletto! Tiriamolo su così! Uh-huh! Uh-huh! E guardate qua! Questa è la borsa per le indagini di cui parlava la gente! Questa ci aiuterà a trovare il mio pranzo! Ma prima... Andiamo a provarla! È stato divertentissimo! È proprio come immaginavi, Blippi! Già! Beh, direi che dovremmo cominciare a indagare! Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo! Benissimo! La cosa migliore è chiamare K-9! Uh! K-9! Questo è un altro nome per il cane! Agente Fichex, mandate K-9! Oh, ce l'ha fatta! I cani poliziotto hanno un olfatto sensibile e la polizia li utilizza come aiutanti per trovare tracce di persone e prove durante le investigazioni! Ce l'ha fatta! Ha trovato delle prove! Investigatore Blippi! Questa è la prova che ha trovato il K-9! Oh, guardate! Questo è il mio bicchiere! Questo è il bicchiere in cui c'era tutta la mia acqua! Cosa ci fa così lontano? Ah! C'è il bicchiere, ora che si fa? Ora dobbiamo raccogliere le prove, usando la borsa di cui ti parlavo prima! La prima cosa da fare è mettere un nastro per delimitare la scena del crimine! Ok! Uh, grazie! Guardate, dice scena del crimine vietato passare! Intorno al paraurti? Ben fatto! Ora possiamo annodarlo! Ok! Facciamo un nodo! Così! Ci siamo quasi! Oh, ottimo lavoro, Blippi! Grazie! Ok! È bello annodato! E ora? È un nodo perfetto, Blippi! Grazie! Dobbiamo fare delle foto usando un righello! Ok! Ok, capito! Ecco il righello! Mettiamolo qui, vicino al bicchiere! E la macchina fotografica! La accendo! Uh! Sorridi! Oh, sei un bicchiere bellissimo! Ok, più da vicino! Ok! Ora la spengo! Ed ecco a te! Perfetto! Ora che abbiamo le foto, dobbiamo raccogliere le prove! Ok! Ma prima di farlo, dobbiamo metterci i guanti! Sì! Per non lasciare le impronte digitali! Esatto! Ok! Ora indossiamo questi guanti! E il primo guanto è di colore blu! E l'altro guanto... È anche lui di colore blu! Bene! Ho messo i guanti e ora... Ok! Ora che abbiamo i guanti, possiamo prendere il bicchiere e metterlo in un sacchetto! Ok! Uh! Conosciamo la motocicletta! È qui che ti aspetta, Blippi! Ok! Wow! Guardate cosa c'è! Wow! È una motocicletta della polizia! E questo è ciò che viene usato per trasportare le prove! Qui! Sì! Venite qui! Wow! Guardate! Ok! Prima le cose importanti! Mettiamo le prove nella borsa di questa motocicletta! Ok! Sono al sicuro qui dentro! Uh! E qui dietro c'è uno scompartimento con un computer portatile! Vedete? C'è un portatile! E... Anche una stampante! Cos'è questo? Oh! Guardate! È una mia fotografia! Uh! Carina! Ok! Rimettiamola qui dentro! Uh! Ok! Eh! Quante cose ci sono da mostrarvi! Ma forse... Prima dovrei montare su... Wow! Wow! Questa motocicletta è grandissima! Molto più grande di una motocicletta normale! Ok! Eh! Ora vi mostro una cosa! Già! Per prima cosa voglio mostrarvi questo! Questo è un autovelox! Vedete? Questo viene usato... Per controllare la velocità di chiunque stia guidando! E voi dovete guidare rispettando i limiti di velocità per la sicurezza di tutti! E vediamo... Cos'altro posso mostrarvi? Oh! Oh! Le luci! Fate attenzione! Pronti? Oh! Esatto! Luci rosse e blu servono a dire a tutti che c'è un'emergenza! E cos'altro può essere usato per segnalare a tutti un'emergenza? È la sirena! Eccola! Eccola! È fortissima! E lo è anche il clacson! Già! E poi... La gente in motocicletta porta le prove alla centrale... Di polizia! Wow! Siamo nella stanza della scientifica! Con le nostre prove! Ehi! Come va? Bene! Ok! Ecco le prove! Ora che facciamo? Dobbiamo cercare delle impronte! Ok! E come si fa? Per prima cosa devi mettere il camice! Woo! Il camice! Guardate! Sì! È di colore blu! Wow! Mi piace il colore blu! È uno dei miei due colori preferiti! Blu è uno di questi! E l'altro è l'arancione! Va bene! Ho messo il camice! E adesso? Adesso tocca i guanti! Uh! Guanti! Li trovo... Ok! Sono proprio qui! Eccoli! Uh! Guardate qui! Dei guanti di gomma blu! Ora noi mettiamo questi per non lasciare le nostre impronte sulle prove! Capito! E ora ho messo i guanti! Che si fa? Ora stendiamo questa carta marrone sul tavolo! Ok! Oh! Capito! Grazie! Uh! Carta marrone! Ok! Bravo! Ok! Ora puoi venire da questa parte! Sì! Arrivo! Eh! Quindi abbiamo questo! Abbiamo la carta proprio qui! Abbiamo i guanti! Cosa ci serve adesso? Ora ci servono alcuni attrezzi! Ok! Vediamo! Prima cosa ci servirà la polvere per impronte! Guardate! Polvere per impronte è di colore nero! Wow! Ok! Bene! Poi ci servirà il pennello! Pennello! Guardate! Questo pennello! Wow! E adesso cosa devo fare? Togli il bicchiere dal sacchetto! Ok! Lo mettiamo qua! Ok! Ecco! Ora immergi il pennello nella polvere! Subito! Solo un pochino! Ok! Ho raccolto un po' di polvere! La vedete? E adesso? Adesso passa il pennello sulle impronte come una fatina che balla su un lago! Una fatina che balla su un lago! Mi piace! Sei simpatica! Ok! Ecco fatto! Ecco qua! Wow! Si vede qualcosa! Wow! Ecco fatto! Questo lo prendo io! Ok! E adesso avrai bisogno di nastro per impronte! Per impronte! Allora, questo nastro sembra un adesivo! Potresti tenermelo un attimo? Certo! Ok! Allora adesso stacco questo! Ed è davvero appiccicoso! E poi lo vado a posizionare qui! Wow! Ecco fatto! Oh! Ok! Lo devo tirare via? Delicatamente tiralo via! Ok! Sì, esatto! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Wow! Ok, chiudiamola come un libro! E guardate qui! Wow! Abbiamo appena preso un'impronta dal bicchiere! Già! La nostra prova! Ok! Adesso la do a te! E poi cosa devo fare col bicchiere? Adesso il bicchiere va rimesso nel sacchetto di carta! Va bene! Vado a prendere un sacchetto di carta! Ok! E... Lo trovo... Qua sotto! Ecco! Un sacchetto! Bene! Te lo passo! Ok! E adesso? Adesso devi sigillarlo con il nastro per le prove! Uh! Ok! Nastro per le prove! Oh! Ok! Proviamo! Nostro per le prove! Sigilliamo! Ecco fatto! È bello sigillato! E ora? Non dimenticare di firmarlo! Oh! Devo firmarlo! Volete fare lo spelling con me? Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Ecco! Ora rimettiamo a posto la penna! Adesso che il sacchetto è ben sigillato, dobbiamo portarlo nel magazzino delle prove! Wow! Andiamo! Andiamo! Che succede? Ciao! Blippi! Ehi! Ho delle prove per te! Oh! Grazie! Abbiamo i risultati dell'analisi delle impronte! Oh! Wow! Guardate qua! È la foto di un procione! Quindi un procione ha mangiato il mio pranzo! Blippi! Ehi! Guardate che cos'ho! Wow! Ho dei sacchetti di giochi da spiaggia! E oggi andremo a giocare nella sabbia! Wow! Wow! Ok! Per prima cosa togliamoci le scarpe! Il motivo per cui mi sto togliendo le scarpe... Wow! È che mi piace tantissimo sentire la sabbia sotto ai piedi! Wow! Ok! Adesso l'altra scarpa! Ok! Ok! Lasciamo le scarpe qui... E... Prendiamo i sacchetti... E andiamo in spiaggia! Sono così emozionato di mostrarvi tutti i miei giochi da spiaggia! Uh! Vi sembra un buon punto? Io penso di sì! Ok! Guardate! Come dicevo, mi piace sentire la sabbia sotto i piedi! Ok! Ho un sacchetto... Due sacchetti... E tre sacchetti! Ok! Vediamo cosa abbiamo qui! Nel primo sacchetto abbiamo un giocattolo verde e blu! Giocheremo con questo fra poco! E poi... Ci sono un sacco di altri giocattoli qui dentro, come la pala... E... Questo! Guardate! Una barchetta! E... Altri giocattoli coloratissimi! Ok! Benissimo! Vediamo cosa c'è nel secondo sacchetto! Wow! Nel secondo sacchetto c'è... Un camion ribaltabile! Wow! Questo camion è di colore rosso, giallo e arancione! Ok! Più tardi lo riempiremo di sabbia... In questo modo! Ma molto di più! Ok! E... Un sacco di altri giocattoli! Uno rosso e... Uno rosa! E uno piccino! Guardate! Che buffo! E una paletta! Guardate questa paletta arancione! Ok! E nell'ultimo sacchetto... Sono così emozionato di sapere cosa c'è dentro! In questo sacchetto c'è... Wow! Un aeroplano! Wow! E... Un secchiello giallo! Con una paletta rossa! E altri giocattoli! Ok! Ok! Penso che dovremmo prendere il camion ribaltabile! Venite con me! Andiamo! Ok! Mettiamo il camion proprio qui! E poi ho bisogno di una paletta! Andiamo! Oh! Ok! Meglio usare questa pala grande... O... Questa pala... Piccola arancione! Mmm... Usiamo quella arancione! Perché è il colore delle mie bretelle... E... Cravattino! Andiamo! La sabbia fra le dita è una bellissima sensazione! Venite vicini e guardate qui! Wow! Wow! Le mie mani e i miei piedi! Che bella sensazione! Wow! Ok! Adesso... Mettiamo una palata di sabbia nel retro del camion! Vedete? Ok! Contiamo insieme! Prima lo svuotiamo! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Ancora uno! Undici! Sì! Ecco! Guardate! È pesantissimo! Wow! Guardate questo camion! Ok! Rovesciamola insieme! Pronti? Da questa parte! Oh! La rovesciamo qui? Ok! Proprio qui! Pronti? E' stato divertentissimo! Andiamo a prendere altri giocattoli da questa parte! Oh! Ok! Guardate tutti questi giocattoli! Vediamo che cos'altro... Wow! Guardate questo! Wow! Come dicevo prima, questo giocattolo è di colore... Blu... E verde! Ok! Vediamo... Guardate! Penso che questo vada in cima! E poi ci versiamo sopra della sabbia! Andiamo! Mettiamolo dove... Prima c'era la paletta! Ok! Forse lo vedremo più da vicino dopo, ma... Fatemi prendere... La pala grande di prima, va bene? La pala? Sì! Venite da questa parte! Uhuhu! Uhuhu! Ok! Tu vai qui! Fatemi spazio, giocattoli! La pala si sta facendo strada! Questi sono i sacchetti di prima! Ok! Raggruppiamo tutto! Ok! Grande! Ora ho la pala! Ehi! Perché non scaviamo un po' di... Sabbia? Guardate qua! Wow! Wow! Volete rivederlo? Wow! Ok! Mettiamone un po' qui... E poi potete avvicinarvi per guardare! Pronti? Wow! Wow! Avete visto? Ancora una volta! Oh! Agitiamo! Ahah! Dai! Puoi farcela! Abbiamo bisogno di sabbia più asciutta! Ok, proviamo! Wow! Avete visto? Girava tanto! Ora vado a prendere un secchiello! Lo riempirò con dell'acqua e proveremo di nuovo usando l'acqua! Guardate! Guardate! Siamo arrivati al mare! Ma non ho il mio costume da bagno! Quindi mi arrotolo i pantaloni così non si bagnano! faccio dei risvolti qui in questo modo e... Anche da quest'altro lato! Ok! Sono pronto a raccogliere un po' d'acqua! Andiamo! Wow! Aspetto un'onda per raccogliere dell'acqua! Wow! Ne arriva una grande! Oh! Ho preso l'acqua! Guardate! Wow! Vedete? Whee! Non sprechiamola! Dobbiamo metterla nel giocattolo! Andiamo! Ok! Ora che ho un secchio pieno d'acqua sono curioso di vedere che succede mettendola qui dentro! Vi ricordate come girava quando ci abbiamo messo la sabbia? Già! Vediamo se quando mettiamo l'acqua che abbiamo preso nell'oceano si mette a girare! Che ne pensate? Vedete bene? Sì? Ok! Andiamo! Oh! Funziona! Ok! Sistemiamo questo! Siete pronti? Ok! Andiamo! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Funziona! Wow! È tanto divertente giocare con questi giochi da spiaggia insieme a voi! Beh! Se volete vedere altri miei video sapete cosa fare! Già! Cercate il mio nome! Sapete come si scrive il mio nome? Esatto! Facciamo insieme lo spelling! Pronti? B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I! Blippi! Già! È il mio nome! Ottimo lavoro! Ci vediamo presto! Ciao ciao! Blippi, Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai, Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi!